salve gente un nuovo video oggi vediamo il conchi alerts esterno all'ultimo conchi che vi ho presentato l'altra volta in quanto gli alerts di open weather map potrebbero non essere disponibili per tutti i paesi quindi questo conchi qui che tratta gli alerts del meteo potrà essere utilizzato da solo e quindi creare a parte un nuovo conchi oppure integrato con l'ultimo conchi che abbiamo visto cioè il conchi della guancola pd open weather quindi andiamo a vedere a video cosa cosa mostra il conchi che ho preparato lo vedete sulla sinistra in alto vi faccio vedere il sito da cui ho preso questi dati allora il sito utilizzato è questo qui che vedete a video world meteorologico all organization e anche qui ovviamente non tutti i paesi sono presenti quindi qui su filter potete selezionare la vostra regione per esempio noi selezioniamo europa e qui vi mostrerà i dati dell'europa però quando voi andate a selezionare il territorio come vedete qui gli stati del mondo non sono tutti presenti sono presenti solo quelli che vedete e quindi i dati che ottenete sono solo questi ho provato a cercare siti che offrono rs speed oppure dati json gratuiti ma i dati che si ottengono sono sempre questi praticamente quindi ho deciso di usare questo sito che è praticamente teniamolo tra virgolette a livello mondiale quello ufficiale questa qui è una versione beta come vedete quindi si spera che nelle prossime versioni siano ampliati a quanti più stati possibili quindi quello che vedete dicevo è quello in alto a sinistra il conchi c'è l'intestazione poi c'è una breve leggenda di tre dati ovvero la s la v e la c che stanno per severity urgency e certainly certainly quindi poi c'è l'evento l'headline che sarebbe anche qui un misto tra evento e descrizione inizio dell'evento la fine dell'evento appunto vediamo adesso le su c specifici per questo evento quindi la s verdi sarà moderata la l'urgenza sarà futura e la certainty sarà likely ovviamente varierà in base al ai vari eventi quindi io ho deciso di mettere all'inizio come vedete qui scritto in arancione di regionale ovvero di regionale fanno riferimento alla vostra regione per esempio l'italia fanno riferimento che ne so al veneto poi ci sono i country alerts che fanno riferimento allo stato quindi italia spagna francia eccetera e il world alerts che fanno riferimento a livello mondiale a a tutti i paesi che sono in lista quindi vengono mostrati in base all'evento più recente ovviamente voi potrete cambiare la varie disposizioni o aggiungerne io per esempio adesso ho deciso di farne 222 voi potete variare che ne so metterne cinque solo di regione degli altri niente oppure tre di regione uno del paese e cinque dei di world alerts come volete allora come è strutturato il progetto lo andiamo a vedere eccolo qui allora all'interno della vostra home voi copierete sempre il file che vedete qui evidenziato il con grc alerts vmo se decidete ovviamente di usarlo da solo questo tipo di alert e sempre all'interno della vostra home copierete all'interno della vostra cartella appunto con chi che avete già usato per gli altri per gli altri progetti per esempio all'interno della vostra conti qui lo vedete scritto alerts 2m o io l'ho scritto per differenziarlo comunque poi troverete ok il fondo se volete utilizzarlo da solo il file per l'avvio di più con chi se volete metterlo in avvio automatico vediamo vedete il conchi rc normale e questo qui degli alerts poi ovviamente potete aggiungere altri con chi se ne avete e questo qui che vi dicevo che va copiato nella vostra home poi dentro la cartella weather c'è la cartella alerts dentro la cartella alerts c'è alerts vmo e dentro ci sono tutti i file ovviamente il one colapi lo troverete solo se utilizzate questo alerts con il vecchio conchi della one colapi altrimenti troverete tutti gli altri file tranne questo quindi all'interno c'è il vm alerts che apriamo e andiamo a vedere cosa fa allora vabbè qui fa le solite importazioni di quello che serve anche qui poi questo qui che vedete evidenziato è il sito di riferimento ovvero quello che avete visto prima a video lo potete utilizzare per per fare dei controlli se volete poi qui prende i dati ovvero prende i dati qui usa il inizializza il sì il link per prendere da dove prendere i dati faccio una premessa che questo link qui non so quanto sia affidabile perché è un link che ho estrapolato dal codice del sito quindi non so quante richieste supporta utilizzatelo non troppo spesso fate una richiesta ogni dieci minuti poi qui ovviamente prende in automatico la vostra home qui dovete settare il vostro paese e la vostra regione nel mio caso ho settato paese italy italia regione penetro se vivete in un altro paese ovviamente scrivete che ne so india e la regione in cui vivete dell'india se questo se il vostro paese è nell'elenco dei paesi serviti dal sito vi mostrerà i dati altrimenti no come vi ho specificato prima qui ho messo un pattern per le regioni italiane se se volete quello della regioni del vostro paese lo dovete modificare ovviamente non è utilizzato attualmente però l'ho messo nel caso qualcuno volesse utilizzarlo poi qui creiamo le variabili che ci servono questo qui è il blocco che è di 18 è fisso perché i dati che provengono da questo da questo link che vi ho questo link qui sono 18 poi c'è una variabile del testo c'è il trattino questa variabile qui è la variabile che vi dà il sito cioè il totale dei degli alers del sito che sono mille 2000 3000 lo riceve in automatico il programma questo qui invece lo decidete voi quanti alas voglio al massimo per stampa bene al massimo 5 in questo caso poi queste sono tutte le variabili che vengono prese dal sito e qui invece dovete settare il vostro numero di alers per esempio voi vedete qui che sulla sinistra il conti mostra il region alert 2 il country il country alers 2 e in world alers 2 quindi qui dovrebbe essere scritto 22 e 2 in questo caso io ho scritto 311 ma non cambia niente era solo per fare dei test perché questa qui è la variabile che dimostra e vi dice quanti alers del mondo voi volete vedete c'è la w finale in questo caso 2 questa la variabile per quanti alers volete a livello di country vedete la finale c questa la variabile che vi dice quanti alers volete arrivato di region in questo caso alcuni chi ne mostra 2 poi risettiamo i percorsi che ovviamente potete modificare in base al fatto che utilizzate questo questo conti da solo oppure insieme all'applicazione o anche l'api quindi andrete a modificare questo percorso qui adesso si trova con questo percorso perché viene utilizzato da solo se lo utilizzate con il conti guancolapi ovviamente qui ci sarà scritto open weather map barra guancolapi e lo fate per tutti questi percorsi poi qui prende i dati dal sito questi qui sono quanti alers ci sono in totale che sono 1200 3000 e questo qui è l'ultima data di aggiornamento e poi qui prende tutti i dati come vedete poi quindi scrive tutti sui file vedete l'istruzione arriva fino a qui questa qui indica quanto quanto lunga la frase in caratteri al massimo 55 per linea per riga questo qui indica per quanto riguarda l'evento vedete la finale e di quante righe si vogliono per quanto riguarda legna in quante righe si vogliono 2 al massimo e per quanto riguarda la di l'area description quante righe al massimo 4 qui comincia a descrivere appunto l'evento quante righe dell'evento abbiamo detto massimo due righe poi qui lo fa per l'headline e scrive alle prossime due righe qui e qui lo fa per l'area description e scrive quattro righe al massimo poi qui prende tutti gli altri dati e li scrive ovviamente prima li trasforma perché alcuni dati vengono trasformati perché hanno un valore numerico e non si capisce quel valore numerico e poi qui scrive gli altri dati ecco qui c'è questa funzione che attualmente non è necessaria però l'ho lasciata perché viene attivata con questo comando qui che avete evidenziato questa qua praticamente scrive solo i dati puliti quindi senza aggiunte per capire che cosa sia il dato poi queste funzioni qui questa scrive gli alerts a livello mondiale senza ovviamente questa parte che è facoltativa poi questa quella scrive i dati a livello country e queste qui scrive i dati a livello region questa qui scrive dei dati generali nei conti cioè delle impostazioni quella che vedete all'inizio qui dal conti le prime due righe il titolo e la leggenda con il trattino e questa qui scrive le istruzioni con chi ancora qui scrive le istruzioni con chi e quindi si dà il file di lettura il file di scrittura qui in base al fatto che sia world county oppure region scrive la riga e poi qui inizia qui scrive i dati per quanto riguarda l'evento e come vedete a video i conti per l'evento fa una riga sola infatti qui assegnata una riga sola se voi volete utilizzare la seconda riga nel caso sia presente mettete questa cosa qui senza il commento cioè togliendo il cancelletto dalla dall'iniziale della riga poi questa sezione qui scrive il headline e come vedete il headline ha una sola riga cioè questa qui se volete la seconda riga togliete il commento da questa parte qui ovviamente tranne questa frase che è una frase di commento che deve restare lì poi qui scrive la data vedete start e end e sono queste due stazioni qui poi qui scrive l'area desk vedete area desk in celestino e poi c'è scritto veneto e scrive solo due righe quindi ha scritta una perché la seconda non è presente si basa sulla lunghezza della riga se voi volete utilizzare tutte e quattro le righe scommentate questa parte qui ovviamente le righe che non sono presenti non vengono mostrate poi qui scrive il succo che sarebbe la s la u e la c quindi vedete qui la s la u e la c questo qui è il blocco di controllo perché ovviamente essendo un blocco di 18 fatto di 18 dati una volta che per esempio se io volessi un solo alert sarebbe un blocco di 18 ma se io voglio due alerts una volta che ho finito il primo blocco di 18 devo dire programma di passare al secondo blocco di 18 e queste qui sono le istruzioni appunto che chiamano questa questa funzione andiamo a vedere il il conti quello di avvio